benvenuti a una nuova puntata di un caffè con la dottoressa cioffi in questa puntata abbiamo un ospite d'eccezione lui è gigi maresca che ci racconterà quali sono le sue mansioni ciao a tutti grazie alla dottoressa eda cioffi grande esperta del mondo medico scientifico ma anche grande artista e conduttrice di grandi eventi mi presento sono gigi maresca dottor gigione da piccolo sono un giornalista che è ritornato a questo mondo dell'informazione dopo esperienze immobiliari e finanziarie con grandi gruppi bancari su napoli lavorando sul territorio nazionale amo il teatro cinema la cultura e suono la chitarra ho una figlia di 19 anni che ha deciso di fare la professione medico scientifica e sarà un futuro medico e vi saluto pensando a grandi autori io ringrazio edda e tutti coloro che mi seguono positano news napoli flicks canale 86 seguo il calcio e la cultura con il programma super status gigi ci racconti se c'è stato un evento nella tua vita che ti ha fortificato e ti ha stimolato nella tua capacità di residenza tra tante esperienze che belle positive la nascita di mia figlia quindi con i timori la paura ma anche le speranze e la bellezza di vivere l'emozione di essere padre il problema che mi ha segnato in più è la rottura con la mia compagna la mia donna mia moglie con la separazione la separazione improvvisa dopo 8 anni di famiglia di intesa e di una crescita una bambina che era ed è un amore una bambina che aveva in quel momento 6 anni una forte introspezione una forte analisi con se stessi per i problemi per le situazioni che si sono create ma anche un momento di grande forza di robustezza e cercare la solidità e l'equilibrio fisico fisico mentale ma anche quella forza per essere un uomo rispettare gli altri ed essere apprezzato nel rispetto dei ruoni anche come padre separato un professionista un uomo e un papà sempre presente nonostante il cambiamento familiare il cambiamento di un percorso diverso rispetto a quelle scelte della propria compagna grazie a gigi di essere stato con noi e noi ci vediamo nella prossima puntata di un caffè con la dottoressa cioffi sempre con tanti importanti ospiti per parlarvi di resilienza sempre qui su arte si un grazie a tutti